Una campagna elettorale condotta con il sorriso e la forza delle idee. Così si presenta Lidia De Benedittis, candidata alle elezioni regionali nella lista di liberi e uguali. Una campagna elettorale condotta con il sorriso e all'insegna della sobrietà e della concretezza dei temi proposti agli elettori. Questa è la sfida lanciata da Lidia De Benedittis, che è forte dell'esperienza acquisita nel mondo del sindacato, a contatto con le complesse e delicate dinamiche del lavoro, tenta ora di portare il suo bagaglio culturale e professionale in consiglio regionale, da candidata nella lista di liberi e uguali alle elezioni del 22 aprile. La concretezza e la comunicazione con le persone necessariamente sono state gli oggetti della mia campagna elettorale, le caratteristiche della mia campagna elettorale, perché io ho un programma da spiegare a chi vuole optare per votare me. E questo ci tenevo a farlo. Non volevo essere soltanto un volto in una lista, volevo essere qualcosa di più concreto. Lei ha messo al primo posto del suo impegno politico in queste elezioni regionali il tema del lavoro, che è la vera emergenza del Molise. Sì, lo scopo che mi sono prefissata, qualora riuscissi a entrare in consiglio regionale, è portare ai minimi termini, in senso positivo, l'avvertenza lavoro, che adesso è ai massimi termini. Lo scopo è quello e, ripeto, l'ho detto tante volte, alcune soluzioni sono assolutamente percorribili con l'attuale legislazione. Sul tema dei giovani, la prima priorità quale sarà? Non soltanto lavoro precario, non soltanto tirocini, non soltanto borse lavoro, ma stabilità e possibilità di restare in Molise con un lavoro stabile e duraturo nel tempo. La legge elettorale con la quale i cittadini molisani, il domenica prossima, dovranno misurarsi da per la prima volta alle donne, la possibilità di potersela giocare quasi alla pari con gli uomini. È già un primo traguardo questo. A livello legislativo era un passo assolutamente necessario e indispensabile. Quello che io ripeto sempre, a prescindere dall'opportunità che deve essere pari tra uomo e donna, è puntare sulle persone valide, che siano uomini e che siano donne. Quello che dico sempre rispetto alla possibilità della doppia preferenza, è che può essere un vantaggio non soltanto per la donna, ma anche per l'uomo, che si abbina magari a una determinata donna, che ha delle credenziali da spendere nel mondo politico. A prescindere dal risultato delle elezioni regionali di domenica, il suo impegno politico continuerà anche nel futuro? Spero proprio di sì, spero proprio che possa continuare, ma in maniera costruttiva. E solo se riusciamo a farlo in questa maniera, perché io non sono persona che vuole spendere parole, io sono abituata a lavorare. Quindi, ripeto, come ho provato adesso, proverò adesso a portare le soluzioni elaborate nel mondo del lavoro, a sostegno di tutte le istituzioni, così se potrò lo farò in futuro, ma solo se riesco a dare concretezza a quello che faccio. Altrimenti solo per parlare non mi interessa.